Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. La cooperativa sociale segni di integrazione Piemonte, denominata Paolo Basso, è stata fondata il 31 marzo 2014 su iniziativa del Consiglio regionale ENS Piemonte. I fondatori sono stati 19, tra cui molte persone sorde, e all'interno della cooperativa ci sono anche molte sezioni provinciali dell'ente nazionale sorde che hanno aderito all'apertura di questa cooperativa. L'attività della cooperativa è controllata direttamente dal Consiglio regionale ENS del Piemonte, che così ne garantisce la correttezza dell'operato e l'aderenza alle finalità statutarie, consistenti nel promuovere l'integrazione sociale e nel ricercare generale opportunità lavorative per i sordi attraverso lo svolgimento di una vasta gamma di attività. E quindi, Elisabetta, quali sono gli obiettivi di questa cooperativa? Principalmente sono due, Chiara, gli obiettivi. Uno è conciliare l'esigenza di inserire nel mercato del lavoro figure che, a causa delle loro difficoltà di comunicazione, incontrano maggiori ostacoli nell'inclusione del mondo lavorativo e della vita civile, rischiando quindi l'emarginazione. L'altra è la possibilità di lavorare in una cooperativa come la nostra, dove il mondo della sordità è conosciuto in maniera approfondita e quindi possiamo essere formati per lavorare con qualsiasi ruolo e quindi libertà di comunicazione e possibilità di carriera. La cooperativa si sta via via dotando di personale altamente specializzato, come ad esempio assistenti di comunicazione in lingua dei segni italiana, interpreti list, docenti di lingua dei segni, addetti alla pulizia, tecnici informatici e oggi conta 26 dipendenti, di cui 18 a tempo indeterminato, con una percentuale di sordi assunti pari all'80%. Nonostante la nostra cooperativa sia giovane, quindi nata da poco, moltissime sono le attività che sono state messe in campo. Sono attività proprie come la gestione della piattaforma del servizio Comunica Ense, vi sono corsi di sensibilizzazione in lingua dei segni alle questure, ai vigili urbani, ci sono corsi di lingua dei segni che vengono forniti in Piemonte e anche in altre regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Toscana. Inoltre abbiamo un'attività importante su Facebook di comunicazione riferita proprio alla televisione. Io personalmente ho vissuto questa esperienza all'interno di questa cooperativa, che è la prima nella mia vita, in maniera veramente fantastica. C'è la possibilità per me di una completa apertura verso il mondo del lavoro, non mi sento emarginata e posso dare veramente tutto quello che so dare e voglio continuare a lavorare all'interno di questa cooperativa. Io, anch'io come Chiara, sono molto soddisfatta di questo lavoro. È stato sempre un po' un mio sogno poter lavorare in una cooperativa, non pensavo di arrivarci. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook con tutte le notizie e video in diretta. Seguiteci sempre. Ciao! Sentivo che piano piano stavo sprofondando giù, come se un buco nero mi stesse divorando. Non riconoscevo più me stessa, i miei confini. Attraverso quei gesti semplici della quotidianità che mi avevano sempre accompagnata. Fare una carezza, mangiare un gelato, accorciarmi i capelli per sentirmi più femminile, ridere a crepapelle con un'amica. Ero entrata in una zona grigia dove tutto arrivava smorzato. Parole, suoni, luci, colori. Ma certo che avevo paura. Mi sentivo sola, dentro. Ogni giorno speravo che una mano si tendesse verso la mia per afferrarmela, che un'emozione anche minima scuotesse la mia apatia, che l'aroma del caffè al mattino inebriasse per un attimo i miei sensi addormentati. Poi non ricordo più che giorno fosse. Ho composto un numero di telefono. Mi aveva colpita l'idea di un amico sconosciuto al telefono. Ho sentito una voce ferma, accogliente, che mi ascoltava, senza giudicarmi, senza voler risolvere i miei problemi, senza voler scavare nella mia vita, senza fretta. Mi ascoltava con attenzione, con premura, e le sue parole accompagnavano i miei pensieri un po' confusi. Mi aiutavano a riflettere e a fare ordine. Le mie sessioni, le mie incertezze, i miei fantasmi, la mia vergogna, prendevano forma attraverso la parola, perché non è una colpa sentirsi così. Può capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Allora ho sentito dentro di me qualcosa, come una scossa. Mi sono sentita un po' meno sola. C'era un amico sconosciuto che si stava occupando di me. La montagna del Piemonte vive oggi una nuova fase di attenzione da parte di istituzioni, enti, come l'UNCEM, l'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane, che oggi riunisce i 553 comuni montani del Piemonte, racchiusi in 56 unioni montane. E con queste, oltre a rappresentare gli enti a livello politico e istituzionale, prova a guidare nuovi processi di sviluppo. Due sono oggi i canali principali su cui lavorare. Quello legato alla green economy, alla valorizzazione del grande bagaglio di risorse, in primis naturali, che le terre alte mettono a disposizione, acqua e legno prima di tutto. E poi il canale legato all'innovazione tecnologica, alla riduzione di un divario digitale che rischia di diventare divario di sviluppo, alla opportunità, alle grandi opportunità date dalla industria 4.0, dalla necessità di puntare sempre di più sull'innovazione di processi e di percorsi. La montagna non è più il territorio marginale dove si consuma solo spopolamento e abbandono. La montagna oggi del Piemonte, più in generale dell'intero paese, diventa oggi un territorio di forte sperimentazione. Pensiamo al fenomeno dei ritorni, delle persone che scelgono di ritornare a vivere in quei luoghi. Sono meccanismi che dobbiamo interpretare, che le istituzioni devono interpretare, che la Regione sta delineando, che sta sostenendo anche grazie ai fondi europei. L'acqua, la montagna è un territorio ricchissimo di risorse naturali. Il territorio ha una necessità di interagire in modo nuovo con le aree urbane. pensiamo soltanto alla opportunità data dal pagamento dei servizi ecosistemici, cioè da quella capacità della montagna di mettere a disposizione delle risorse e vederle valorizzate dalla città che le riconosce e gli dà un valore. Questo è un elemento essenziale per le Vali di Lanzo e siamo qui con il Presidente dell'Unione Montana Vali di Lanzo, Ceron de Casternone, Tina Salto. Le valli più vicine a Torino oggi assistono a nuovi fenomeni importantissimi di valorizzazione. Vero, Presidente Assalto? Allora, è evidente che queste opportunità restituiscono dignità alla montagna in termini di ritorno, dignità in termini di lavoro, in termini di ricchezza. La montagna ha subito un pesantissimo spopolamento, ha pagato un grande tributo alla terza e quarta rivoluzione industriale, per cui queste opportunità di ritorno chiaramente costituiscono nuovi orizzonti di ricchezza. Per quel che riguarda il territorio delle Valle di Lanzo, naturalmente ci stiamo attivando su molti fronti, accanto ai settori tradizionali, quello dell'agricoltura e quello dell'allevamento, c'è anche quello dell'utilizzo intelligente, delle risorse forestali. Tanto per capirci, forse relativamente al settore agroalimentare, il prodotto forse più noto del nostro territorio è la Toma di Lanzo. Ora stiamo lavorando affinché la produzione di questo prodotto diventi sempre più una produzione di qualità, una produzione di nicchia, con l'attenzione in modo particolare a quello che è la Toma d'Alpeggio, creando le condizioni affinché si aumenti la produzione e i livelli di qualità aumentino rispetto a quello che sono le richieste di un mercato sempre più attento e sempre più esigente. Per quanto riguarda lo sfruttamento intelligente delle risorse boschive, stiamo attivando l'associazionismo fondiario per fare in modo di restituire un bosco pulito, curato e il ricavato naturalmente in grado di fornire materiale ad un'azienda forestale per poter poi essere tradotto in modalità nuove di riscaldamento di edifici pubblici. Ora la cosa importante da sottolineare è che la montagna per vivere ha bisogno di servizi, di garanzia di servizi e di accessibilità in termini sia di mobilità sia in termini di connettività. La montagna, quella vivibile, non è solo quella, come dire, una location per una bella fiaba, è un luogo frutto di cure, di presidio quotidiano di chi la montagna la vive ogni giorno. Ci troviamo all'interno del Museo Pietro Micca, locali di proprietà dell'esercito, ma il museo è gestito dalla città di Torino. L'associazione Amici del Museo Pietro Micca svolge la sua attività a supporto del museo. L'attività si svolge in diversi settori. Il primo è quello delle guide volontarie. Grazie a loro, per tutto l'orario di apertura del museo, vi è un volontario che garantisce l'accompagnamento per quanto riguarda i visitatori. Il nostro gruppo storico partecipa a manifestazioni in costume, non solo in Italia, ed è uno dei più importanti gruppi storici italiani. Poi abbiamo il gruppo Scavi, che si interessa ancora di portare alla luce le opere ipogee che si trovano nella città di Torino. Recentemente, grazie al progetto Alternanza Scuola, la nostra associazione ha deciso di inserirsi per parteciparvi. I ragazzi vengono portati qui nel museo e dei nostri volontari, io direi molto bravi e molto preparati, hanno stilato dei programmi didattici per presentare a questi ragazzi il periodo e la storia degli anni che hanno coinvolto il nostro Stato, lo Stato Sabaudo, all'epoca di Pietromica e delle guerre di successione di quel periodo. Per la crescente necessità delle scuole di aderire a programmi di alternanza scuola-lavoro, la nostra associazione ha avviato rapporti diretti o indiretti volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi ministeriali. Nasce così la collaborazione con la S.A. School of Management, che attraverso una didattica attiva e un approccio metodologico organizza ai ragazzi in team e gli attribuisce delle attività specifiche su cui lavorare. Ma l'attenzione verso i più piccoli non finisce qui. Nel 2016 abbiamo infatti pubblicato, grazie al contributo di Volto e alla fantasia di Giulia Piovano e Valeria Pavese, il nostro primo libro per ragazzi per raccontare loro la nostra storia, con la giusta dose di fantasia. Il libro è oggi disponibile gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, in italiano e in inglese, presso la nostra sede, in orario di apertura della segreteria. Il Museo Pietromica ha al suo interno un'attività didattica rivolta ai ragazzi delle scuole. È assolutamente gratuito questo progetto, si chiama appunto Progetto Scuola, e viene proposto a tutte le scuole di ogni ordine grado, dalla scuola primaria fino ai licei. A richiesta degli insegnanti andiamo nelle scuole a portare proprio la storia di Pietromica della sedia di Torino del 1706. Noi appunto come museo mandiamo nelle scuole un programma all'inizio di settembre, quando cominciano le scuole, mandiamo appunto nelle varie sedi il nostro programma, il nostro progetto, e se poi gli insegnanti sono interessati possono contattarci e noi andiamo appunto da loro. Le attività che facciamo nelle scuole vanno dalle 2 alle 4 ore e poi c'è l'attività propedeutica, cioè l'attività vera e propria che è all'interno del museo. Questo naturalmente, per quanto riguarda, ripeto, un'attività assolutamente didattica è finalizzata a far conoscere questo pezzo di storia che manca. In questo contesto abbiamo anche una scuola particolare, che è proprio vicino al nostro museo, alla quale abbiamo dato una certa rilevanza per il semplice motivo che è stata costruita sopra al cisternone, l'antico pozzo dal cui attingevano l'acqua i soldati della cittadella. Ogni anno i ragazzi di questa scuola, nel mese di maggio, aprono a chi vuole andare a vedere questo cisternone e con il nostro aiuto si può scendere fino a vedere i resti di questa costruzione che ormai purtroppo non è più visitabile in totum. Queste sono le attività didattiche che facciamo all'interno di questa scuola a vantaggio dei ragazzi delle scuole di Torino, della provincia di Torino e qualche volta richiesta anche fuori dalla provincia di Torino. Per avere maggiori informazioni o per saperne di più sulle attività in corso e la partecipazione al progetto scuole, potete contattarci agli indirizzi email in sovrimpressione. A tutti una buona giornata. Buongiorno, sono Anna Di Mascio, sono di Lega Coop Sociali per il Piemonte. Le cooperative sociali sono delle imprese cooperative che hanno una finalità importante che è quella della promozione umana e sociale all'interno delle comunità dove operano. Sono imprese e quindi hanno la responsabilità di avere dei conti economici in equilibrio. svolgono delle attività professionali, soprattutto nel campo del welfare. Sono molto note in Italia, hanno una grande presenza nel campo dei servizi alla persona e queste sono le cooperative sociali di tipo A, ma sono anche un'esperienza importante per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e queste si chiamano le cooperative sociali di tipo B. Per quanto ci riguarda, in Piemonte la nostra è una presenza significativa. Noi abbiamo quasi 150 cooperative sociali, abbiamo più di 10.200 persone che vi lavorano, che quindi hanno uno stipendio regolare, un contratto di lavoro regolare, tendenzialmente a tempo indeterminato e soprattutto hanno una presenza femminile. Sappiamo che il lavoro di cura è un lavoro che è molto presente tra le donne, però siamo anche una presenza importante per sostenere appunto il lavoro delle donne e la creazione di occupazione. Ci occupiamo dai bambini alle persone anziane, ci occupiamo anche come possiamo immaginare oggi dell'accoglienza agli stranieri e abbiamo sia investimenti propri e lavoriamo con l'ente pubblico proprio per questa finalità importante. Io invece, buongiorno, sono Eva Coccolo e sono presidente di una cooperativa sociale di tipo B. Le cooperative sociali di tipo B hanno come caratteristica, come propria mission, l'inserimento lavorativo. Cosa si intende per inserimento lavorativo? Si intende accogliere all'interno delle nostre imprese, farne parte attiva delle nostre imprese persone che provengono e che vengono segnalate dai servizi socioassistenziali e sanitari, cioè persone che hanno un passato di tossicodipendenza, un passato di problemi psichiatrici o handicap fisici, psichici, o comunque tutto quel disagio che generalmente il mondo del lavoro espelle, all'interno delle cooperative sociali di tipo B trovano un modo, un metodo di lavoro che gli consente di programmare in qualche modo la propria vita e di riuscire a superare questi momenti di disagio. Stiamo parlando di numeri importanti perché parliamo di imprese che a oggi in Piemonte hanno circa 3.000 addetti e un terzo di questi addetti sono persone cosiddette svantaggiate. La formula cooperativa è una formula fondamentale perché le persone appartengono all'impresa, l'impresa è un'impresa a tutti gli effetti, i contratti sono a tempo indeterminato e sono persone regolarmente assunte e regolarmente retribuite. Questa è la formula fondamentale. Le persone non sono assistite ma lavorano, lavorano dentro le nostre imprese. Questo credo sia la cosa più forte che noi dobbiamo dire per sostenere le imprese come le nostre, imprese che danno lavoro vero a persone che altrimenti verrebbero espulse completamente dal mondo del lavoro. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!